qui oggi probabilmente abbiamo un prodotto che è scaduto, in realtà no, che è questo ecco il nome monete stellari latte caffè childhood quindi il risavolo di freezer caffè un espresso pelato bold bold e della crema latte dov'era tenere conservazione conservare in frigorifero tra i 28 gradi un canale deve venire punto 1 come si apre sta merda vediamo innanzitutto via innanzitutto vediamo se la cannuccia è porca madonna puttana di dio vediamo se la cannuccia eco friendly non è eco friendly devi aprire questo togliere il coso e rimetterlo e poi gli togliere il posto di carta luce che schifo adesso devi mettere quello a mattia e poi la cannuccia quel che è stato fatto è questo ma giù è giusto mi fa schifo a guardarlo inizializziamo questa bevi e posso andare a mangiare sai di coppa del nonno sciolta ma non dovrebbe essere caffè? si inchiacudore è tipo il caffè della coppa del nonno una coppa del nonno sciolta questa c'è scritto è stato andato solito io non posso sapere vedi monete stellari latte caffè cialed caffè quindi dell'esercito in freezer caffè pelato crema latte cialed caffè di coppa del nonno sciolta che schifo cialed caffè di coppa del nonno sciolta è una cosa più brutta cialed caffè di burrilla cialed caffè di burrilla che schifo è solo questo scomparso fatto io ah mi son bucato un labbro beh aspetto adesso vi dirò la vera essenza di questo mondo le bollicine quando fate bolle del latte avete presente quando fate bolle del latte fa tutte fate le bolle del latte le bolle del latte che schifo comunque non ho fatto lo sprizzo sprizzo che questa cosa mi è molto delusiva pensavo di assaggiare un caffè un po più forte manco usando la tecnica degli air noob di scomporre il cibo riesci a capire che gusto è è una coppa del nonno scadutissima no scaduta sciolta ciao